Calo fisico ma lettura sbagliata, diciamo che è una lettura sbagliata, anche perché quando loro a un certo punto hanno cambiato modo di giocare perché da 3-5-2 sono passati 3-4-3, quindi automaticamente andavano con i tre attaccanti a attaccare i tre nostri difensori, quindi a quel punto non dovevi più giocare da dietro ma dovevi soltare le linee e uscire con i quinti. Purtroppo questo non l'abbiamo fatto e da situazioni da palla a noi sono scaturite sia calci di punizione e azioni da loro che ci hanno messo in difficoltà, poi abbiamo avuto l'occasione di chiuderla. Abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti, abbiamo avuto un calo secondo me fisiologico da parte di qualche giocatore, però c'è anche da capire che credo da quando sono arrivato questa è la settima, ottava partita neanche in un mese, quindi ci può stare, giocano spesso gli stessi, dobbiamo lavorare molto, c'è da lavorare perché non si può, è bello vincere, in senso queste vittorie sono belle perché sono fatica, però c'è una sofferenza terribile quindi dobbiamo migliorare in quello, è vero che non abbiamo preso gol e diciamo anche che è meritata la vittoria, perché se andiamo a vedere il primo tempo loro, ripeto sempre da situazioni nostre si sono create situazioni loro, cioè non possiamo per dirti un esempio prendere un contropiede, su un attacco nostro abbiamo preso una ripartenza dritto per dritto verso la nostra porta, questo non va bene, quindi dobbiamo lavorare in questo, c'è tanto da lavorare, io sono felicissimo dei risultati, ma meno di, dobbiamo sapere stare meglio in campo e avere le letture leggermente migliori, a parte fare i complimenti che comunque sotto l'aspetto caratteriale questa squadra sta crescendo, anche se qualcun altro può crescere ancora. Noi siamo una squadra che comunque è grossa, però abbiamo più attaccanti, a parte Ripa, che è uno da area di rigore, però abbiamo più attaccanti che sanno attaccare la profondità, che giocano fuori dall'area di rigore, quindi in certe situazioni questo ci può venire a mancare, anche se oggi Di Nardo ha fatto gol di testa e ha fatto anche una gran partita, però Di Nardo ha caratteristiche diverse, probabilmente quello dell'area di rigore, di andare a attaccare più l'area di rigore non ce l'abbiamo nel nostro DNA, in che senso? Noi attacchiamo, però senza avere un criterio di attacco alla porta, può essere che attacchiamo in tre quando dobbiamo attaccare in due, può essere che attacchiamo uno quando dobbiamo attaccare in due, ma sono situazioni che proviamo e riproviamo in allenamento e stiamo cercando di fare, quindi dobbiamo essere anche più bravi a cambiare modo di giocare nella partita. In questo campionato noi dobbiamo capire che esistono vittorie pure come queste, soffrendo fino alla fine, lo sapevamo che il Fano era una squadra che combatteva fino dal primo al novantesimo minuto, abbiamo visto anche che ha fatto risultati importanti fuori casa, sia a San Benedetto che a Chieti, quindi siamo stati anche un po' polli noi a non chiuderla prima e poi di conseguenza abbassarci e rischiando qualcosa in più. Calo fisico oppure paura? No, non parlo né di calo fisico né di paura, ci sta forse che dopo tre partite in una settimana ci sia un po' di calo, però secondo me dovevamo assumerci un po' più di responsabilità uscendo anche con passaggi un po' più semplici. Sapevamo che oggi era una partita dove il Fano ci aspettava, io in primis certe volte ho sbagliato a forzare la giocata, invece dovevamo stare un po' più tranquilli nel ricercare il compagno libero, portando avanti la palla e cercando gli spazi giusti. Poi dopo la partita sapevamo che nel secondo tempo se andavamo in vantaggio c'erano più spazi, i primi 20-25 minuti li abbiamo sfruttati, poi dopo ci siamo un po' abbassati. Non è mentale, può anche essere fisico, però dovevamo gestire meglio il possesso. Grazie per la visione!